Salve a tutti amici dei Transformers da JustLuca di Autorobo.it e benvenuti a una nuova video recensione di Transformers una video recensione di quelle che mi piacerebbe fare più spesso dato che è relativa ai Masterpiece i Transformers Masterpiece, come già dice il nome appunto Masterpiece Capolavoro sono appunto una linea per collezionisti praticamente anche se alcuni sono venduti negli ipermercati e adesso andremo nello specifico, ma per lo più appunto per collezionisti adulti che ripropongono in chiave appunto molto elaborata da collezionisti personaggi storici dei Transformers è nata appunto ovviamente celebrando giustamente i personaggi G1 si è ampliata anche fra le altre cose senza dare uno specifico ma fra le altre cose anche appunto presentando personaggi dei film dal vivo stavo dicendo di Michael Bay ma non sono più per fortuna tutti di Michael Bay ma insomma i personaggi dei film dal vivo dei Transformers e appunto i personaggi dei film dei Transformers i Masterpiece relativi a questi personaggi qua sono quelli che sono anche venduti in America tramite catene di negozi appunto specializzati o comunque ipermercati catene di ipermercati quindi i nostri Masterpiece Movie Masterpiece MPM sono già più abbordabili rispetto ai Masterpiece diciamo più classici della soldata cara che comunque appunto abbordabili proprio nel senso di prezzo anche se questo a dire vero ha il suo bel prezzo il nostro Optimus Prime Movie Masterpiece 12 ovvero non il primo Optimus Prime in assoluto ma neanche il primo Optimus Prime della Dian Movie dato che il primo ovviamente è stato quello a parte i primi due no scusa no no era Bumblebee e Starscream che vabbè erano una cosa a parte ma il primo Optimus Prime Movie era quello ovviamente dei film primissimi film di Michael Bay dal vivo e questo è invece quello apparso nel film di Bumblebee con il look G1 personaggio di cui ho parlato giustamente recentemente nella versione Studio Series che qui è in modalità camion poi vi spiegherò giustamente il perché l'ho lasciato ancora così ma comunque appunto questo Movie Masterpiece è uscito da quest'anno quindi ho fatto un acquisto di un Masterpiece abbastanza recente diciamo e appunto non avendo effettivamente un Optimus Prime in collezione talmeno questo proviamo Masterpiece in collezione proviamo almeno a prendere questo giusto per arricchire la collezione Masterpiece che appunto in quanto tale, in quanto costosa mediamente o uno colleziona tutti i Masterpiece o uno colleziona i Generation da supermercato diciamo uno colleziona tutto e beato lui che riesce a farlo ma comunque già la confezione però diciamo la confezione non è il massimo nel senso che è bella non dico piccola ma è proprio giusta giusta per il robot infatti ci sta proprio dentro in modalità robotica ci sta proprio giusto giusto ma in modalità di camion ci stava più comodamente però vederlo così tutto stretto e comunque anche per il prezzo che costa in una confezione così piccola diciamo poi se non ho presente magari le altre confezioni di altri Masterpiece di questo prezzo tipo un altro Masterpiece Optimus Prime però vabbè insomma diciamo che già così un pochino qualche sentimento in più giusto per dire wow ho preso un bel Masterpiece costoso faceva un po' più figura ma vabbè comunque la confezione è questa tipica Masterpiece anche se dentro è in cartone non sto qui a unboxare cose dato che è già aperto appunto e parliamo appunto del robot innanzitutto che ribadiamolo è la versione Masterpiece del personaggio dell'Optimus Prime del film di Bumblebee che come possiamo vedere in questa diapositiva della scatola dello Studio Series era già molto bello ma ci ho fatto la recensione a parte apposta recentemente e quindi niente semplicemente è bello è un bel personaggio è un bel robot appunto se già lo Studio Series era bello ben fatto non dico un piccolo Masterpiece ma davvero bello fra dettagli scolpiti e tutto e poi trasformazione anche altmod però aveva sembianze un po' giocattolose potremmo dire il nostro Masterpiece in quanto tale sembra proprio appunto uscito dallo schermo cinematografico nel senso che è davvero ben fatto ben dettagliato e appunto ha un look un po' più sinuoso purtroppo che non magari diciamo squadrato che era quello per quanto bello ripeto ma è il nostro qui Studio Series e comunque possiamo vedere è davvero bello ben fatto a livello di dettagli scolpiti dipinti e tutto e praticamente parebbe quasi assente da keyboard o avanzi del non richiesti più che altro dell'altro modo dato che ovviamente i keyboard non mi piace come parola ma mi tocca dirla il fatto che appunto abbia questi bei finestroni del petto del camion sono la carta d'identità diciamo di Optimus Prime anche qui le canne fumari eccetera poi ci torno però il resto del robot è davvero ben fatto sputato alla versione in CG anche visto da dietro le cosce e tutto non ci sono avanzi a parte se non quelli voluti appunto come le ruote che si vedono appunto nel CG anche il pannello che poi vedremo gioco forza adesso vedremo la trasformazione e richiama quella dello studio series ma anche in generale tutta una serie di trasformazioni di generation Optimus recenti G1 tipo appunto generation di World for Cyber ma insomma il pannello qui comunque non è così diciamo ingombrante fastidioso che per quanto sia per lo studio series era perdonabilissimo perdonabilissimo in quanto Voyager o Voyager scusate comunque appunto ben dettagliato e tutto quello che un po' è un pugno su un occhio visto da dietro sono questi pannelli dei lati della cabina sotto gli avambracci che ripeto che da davanti si intravedono pochino non troppo però nel complesso qui un po' danno fastidio perché è un masterpiece laddove appunto ripetiamolo nel Voyager studio series era proprio nulla rispetto a tutto il complesso di come era il robot eccetera mentre qui in questo ben di dio appunto scolpito esputato ripeto alla Cg del modello in Cg questi qua così proprio presi di peso i pannelli dalla modalità di camion un po' darebbero fastidio però glieli perdoniamo un po' qualcosa insomma sempre rispetto al fatto che è un masterpiece movie e quindi comunque a proposito di essere sputato al Cg almeno al concept design il nostro invece ha un look un po' più slanciato al livello delle gambe dato che se andiamo a guardare il disegno da cui si ispira le gambe in teoria le tibie insomma dovrebbero essere un po' più corte dato che antropoformicamente parlando i femori negli esseri umani sono più lunghi delle tibie mentre nei robot è più figo vedere che hanno le tibie più lunghe cosa che non era proprio il disegno del concept design era già più equilibrato più antropomorfo mentre qui il nostro invece si prende libertà di essere bello imponente appunto così come la testa tra l'altro è se si vede la testa è un po' più slanciata più longilinea ricordando più che altro il design del movie del primissimo Bayformer che era più slanciata con le antenne un po' più lunghe anche i disegni sulla maschera se si vedono vediamo se si vedono sono abbastanza ben dettagliati mentre ripeto anche guardando il film proprio facendo i fermi immagini durante la visione del film di Bumblebee si vede che comunque la testa è un po' più simile al cartonimato più paffuta che non più longilinea anche la maschera non ha tutti questi dettagli ma diciamo che potrebbe essere una versione alternativa di Optimus Prime movie Bayformer che ritorna ad avere l'alt mode originale che si vede appunto dato nel prequel di Bumblebee dato che tecnicamente il film di Bumblebee per certi versi è un prequel dei film di Michael Bay soft reboot prequel così però un po' si cerca di riallacciarsi per certe tematiche appunto ai film di Michael Bay cosa che un po' farebbe fatica a riallacciarsi a quel film scusa alla pentalogia di Bay è il fatto che il nostro presenta una matrice già nel petto possiamo vedere che si apre il il petto appunto in maniera classica dell'Optimus Prime e la matrice l'ho tirata fuori prima se no era perdevo mezz'ora a cercare di estrarla matrice in ferro in metallo come altre parti di questo Optimus di questo modellino matrice molto classica come design laddove appunto quella che appare nei film di Michael Bay è una matrice con disegno un po' diverso tipo con le lame laterali e un po' appunto sarebbe un'incongruenza di continuity perché appunto prima di Revenge of the Falle non compare la matrice poi fa una comparsata su Dark of the Moon e ciao non si vede altro quindi chissà che non sia appunto un'incongruenza stilistica magari la vedremo questa matrice che salta fuori di nuovo nel prossimo film Rise of the Beast dato che c'è ci sa che dovrebbe esserci Unicron comunque gente affiliata ad Unicron oppure semplicemente l'hanno messa giusto per far scena perché Optimus Prime con la matrice dovevano metterci un accessorio dato che il nostro nel film come accessorio ha solo questo super cannone ionico che è in proporzioni bello grande come si vede appunto nel concept design ma quasi rivaleggia come grandezza col cannone a fusione di Megatron di un Megatron classico e quindi fa la sua figura anche il cannone ionico poi tra l'altro si piega si può piegare in questa maniera e si può sistemare a riposo in questa fessura qui dietro il bacino che non è proprio comodissima da tenere però dai forse era meglio qua dietro la schiena in forma apposito sul pannello però anche così dai può anche starci o anche così forse o anche così comunque è davvero un bello robot ben fatto è tutto bello slanciato in scala ovviamente cioè oddio sì in scala con l'altro Optimus Prime che non ho che però ha un jazz masterpiece comunque la scala è quella classica anche se in teoria la scala dei robot di Transformers e dei film di Bumblebee in teoria sarebbe un po' più ridotta rispetto a quella di Bayformer praticamente della penteologia di Bay quindi bow ma comunque la scala quella classica standard diciamo anche di Masterpiece G1 quindi sarebbe alto come l'Optimus Prime G1 uno dei tanti Optimus Prime G1 Masterpiece usciti a parte il primissimo ovviamente due questi sono gli altri G1 vabbè insomma bello ben fatto ben scolpito posabile ovviamente a livello di Masterpiece Oddio anzi peccato che la testa qui non si alza non si sollevi non guardi in alto peccato ah qui anche ha plastica trasparente dietro alla nuca però un po' inutile dato che ecco non è che si veda tantissimo attraverso dovrebbero forse illuminarsi gli occhi con il light piping ma non c'è non si vede neanche tramite le luci qua che uso quindi è un po' sprecato questo light piping sono in gomma ah ecco adesso ci arrivo le antenne qui meglio per fortuna che mai non si rompono le cose le canne fumari e tra l'altro ecco dicevo il dettaglio della fedeltà è tutto fedele a parte il discorso che le canne fumari qui dovrebbero essere nascoste da questi pannelli qui che si vedono appunto se si va a guardare il motello in cgi la parte questa base delle canne fumari dovrebbe essere nascosta da questi pannelli non vedersi e ti ci vabbè può anche starci ma dopo andremo a vedere il discorso di questi pannelli cosa hanno a fare da maledirli un pochino poi vedremo ah e un'altra cosa vabbè come Masterpiece ma non è neanche il massimo che si intravedano i perni qui ai lati delle gambe che saranno a unire poi le gambe appunto per la trasformazione della parte posteriore del camion però purtroppo è così adesso vediamo quanto tempo ho mi sa che adesso la trasformazione la faccio abbastanza velocemente con pause perché sennò qua non riesco a fare un video troppo corto quasi quasi non vorrei dire che l'assalto ma magari certi passaggi beh iniziamo intanto dai con la trasformazione ovviamente dicevo si basa sulla la grande linea ovviamente sullo studio serie dato che è il modello giusto con cui riallacciarsi abbiamo cose prese in prestito appunto dallo studio serie cose no però il fatto che le gambe qui si aprano per trasformarsi come era qua si apre si aprono i serbatoi laterali qui parti di metallo anche questi qui quelli che diventano i serbatoi laterali del camion rientrano i pannelli dei polpacci raddrizzano i piedi rientrano le ruote che da qui passano a qui anche i piedi qui si abbassano verso l'interno e si unisce appunto nella parte posteriore i serbatoi qui laterali si chiudono su quelli grossi adesso passiamo alla trasformazione del busto che vede ovviamente anche qui il pannello aprirsi della schiena anche questo pannello qua ma questo non serve neanche aprire tanto il busto il petto insomma e abbiamo sempre anche qui il busto che ruota già visto appunto nello studio series solo busto che ruota rispetto allo stomaco ovviamente andava abbassato non ancora e qui si abbassa si piega il bacino e si abbassano anche le ruote si riesco farlo si chiudono incastrate ecco qua ok le ruote che sono su dei perni pieghevoli abbiamo appunto questa parte qui del bacino che va ad alzarsi e il retro del bacino questo pannello va a bloccarla le ruote si abbassano e vanno a fissarsi la testa semplicemente sparisce all'indietro va a nascondersi dietro non è troppo difficile come trasformazione spiegano un po' in avanti le mani qui spariscono all'interno della mani snodate pollice indice e basta e anche le altre tre dita e adesso arriva la trasformazione questa qua che adesso è meglio che faccio pausa se no non mi avanza tempo di parlare del camion ok appunto ho incastrato le braccia sui fianchi anche tra l'altro però le braccia in questo caso si giravano al contrario e andavano piegate adesso c'è anche questo il pannello sopra la testa che va disteso il pannellino qui sempre come anche lo studio series abbiamo i pannelli sulle spalle che si dispiegano anche qui stessa soluzione che qui trovata inoltre abbiamo questi pannelli qua sempre laterali che erano sulle braccia che si abbassano e vado a incastrarsi nella parte anteriore così come questi pannelli finali qui adesso incastro bene tanto vi mostro che vanno appunto a si abbassano che erano quelli sulle spalle con i simboli vanno ad abbassarsi a coprire a formare il resto della cabina infine abbiamo questo modulo qui che era lo stomaco praticamente che va a fissarsi qui dietro e va ad agiarsi le tibie praticamente i paratibie vanno ad agiarsi semplicemente così e ad incastrarsi per bene e adesso altra pausa che incastro tutto per bene anch'io con calma ed ecco il nostro bel camion motrice finito completato trasformato ma il bel purtroppo è abbastanza relativo purtroppo in questo caso dato che possiamo vedere che se davanti fa il suo figurone bel camion solito adesso poi andiamo anche sul discorso della marca del camion come già detto per lo studio sedies purtroppo basta girarlo un attimino e vediamo l'orrore nel senso che abbiamo appunto questa retro del camion che è davvero imbarazzante potrei dico senza purtroppo fuori dai denti dato che abbiamo i stinchi i parastinchi del robot buttati lì tranquillamente senza tanto farsi problemi così abbiamo il retro del camion che dovrebbe essere questo qua che sarebbe poi l'aggancio del piedimorchio che è scolpito alla buona sotto i piedi e si vede anche che queste sono le sagome di piedi proprio l'orma del piede abbiamo che uno non subito ma poi capisce vede che le ruote sono più piccole in proporzioni al camion adesso abbiamo anche l'esempio stesso un altro camion simile così come è anche un po' troppo allungato verso indietro e infatti adesso prendiamo come esempio il camion di ultramagnos solo camion motrice di ultramagnos e possiamo vedere che se la misura della cabina è praticamente quella per carità le ruote sono ben più piccole queste qua del nostro masterpiece ben più piccole in proporzione di poco ma lo sono e si vede abbastanza la proporzione anche ripeto e anche è innaturalmente un po' più allungato verso indietro insomma laddove magari in qualche maniera qua le ruote magari non dovevano essere buttate così all'indietro in qualche maniera andava un po' accorciato e anzi abbiamo detto che il robot è anche un po' più allungato diciamo a livello di gambe inferiori di tibia proprio per essere più maestoso però alla fine il risultato nel camion è questo qui e ripeto fa un po' specie il fatto che alla fine un Voyager Studio Series ben fatto e tutto ma pur sempre un Voyager come camion sia ben più realistico anche proporzioni e tutto anche proprio la parte qui hanno fatto un lavorone nel Studio Series a fare la parte posteriore più non troppo appesantita insomma rispetto al resto del camion e qui invece abbiamo tutta la parte posteriore che è un taffanario di robe dietro che vabbè la parte si salva solo del paraurti diciamo posteriore e niente così e abbiamo e tra l'altro diciamo che altri camion Optimus Prime Masterpiece magari non sono perfetti nella parte posteriore ma è anche vero che erano ispirati al cartone animati o al giocattolo e comunque avevano magari per lo più anche un rimorchio a coprirli qui invece abbiamo il camion che ha queste parti qui davvero non in disguise non è il massimo e niente da fare purtroppo fa non è proprio il massimo da vedere in un Masterpiece che dovrebbe essere realistico come camion un po' forse ci potrebbe salvare il discorso del camion dato che sappiamo che tra l'altro non neanche qui il Masterpiece è fedele a come appare nel film dato che sappiamo che nel film compare un fretliner classico come il buon Ultramanus laddove invece Voyager è un camion Marmon l'avevo detto Marmon l'altra volta sulla recensione è un marmon ditta Marmon azienda come cavolo si chiama che ha fatto questo marchio insomma Marmon insomma e praticamente il nostro invece però nonostante appunto i parasole di parabrezza ecco se andiamo a vedere però i parabrezza sarebbero obliqui un po' come dovrebbe essere il fretliner laddove invece il marmon è un po' tagliato più perpendicolare il muso però cosa rovina anche la cabina farima rovina il fatto che ci sono questi pannelli qui che si vedono le orecchie da gatto del camion che spuntano fuori che erano appunto i pannelli che erano sulle spalle laterali del nostro robot che in teoria tra l'altro perché le hanno fatte così per fedeltà al modello in CG che comunque nel modello CG non era neanche fedele perché appunto non copriva abbiamo detto le basi delle canne fumarie quindi praticamente hanno sbagliano cioè per fare questi pannelli qua hanno non hanno fatto il loro lavoro questi pannelli nel robot non coprendo le canne fumarie inoltre danno fastidio alla cabina e ad un altro modo che di suo ripeto è già purtroppo rovinato a livello realistico da tutta una parte inferiore che è davvero abbozzata ad essere buoni e appunto se almeno la cabina poteva salvarsi per colpa di questi pannellini qui che saltano fuori così allegramente non è neanche fedele in questa maniera qua e quindi purtroppo abbiamo il fucile qui che è ripiegato va a sistemarsi qui dietro vabbè ingiusto per però ripeto purtroppo questo modello di camion non è non è riuscito è evidente che semplicemente si sono concentrati per fare un robot più troppo morfo simile più più bello più iconico eccetera simile al modello in Cici però sacrificando parecchio dell'alto modo su un alto modo che dovrebbe essere appunto comunque doveva essere realistico ma in quanto tale non è e fa un po' peccato anche per il fatto che hanno fatto anche modelli simile masterpiece di ditte tre picchie sono invece migliori a livello sia male di robot anzi per il discorso di pannelli per carità sia a livello di alto modo e quindi purtroppo non è il massimo questa cosa qui che il nostro abbia scada in questo discorso di dell'alto modo però nonostante tutto è bello come come robot però se uno deve non è così se ne frega magari giustamente dell'ufficialità dei vari Optimus Hasbro Takara per forza può guardare in questo caso a terze parti giustamente fatti migliori o eventuale rifacimento di questo Optimus Prime per la sua uscita su Rise of the Beast e niente comunque ripeto alla fine peccato per l'alto modo davvero molto bello il robot pochi difetti è tutto imponente bello ben fatto per quanto si discosti un pochino dall'effettivo modello del film però ripeto davvero un peccato per questo altro modo abbozzato quindi è riuscito un po' a metà questo questo masterpiece di Optimus Prime del film di Bumblebee grazie per aver visto questa mia video recensione fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi mettete mi piace magari per piacere grazie e comunque partecipate andate a leggervi la recensione scritta che ci sarà quel link qui sotto e partecipate numerosi su Vector Sigma la recensione e tante altre cose anche i fumetti su Vector Sigma e partecipate numerosi al gruppo facebook di autorobot di autorobot.it dove c'è la comunità italiana dei fan di Transformers grazie ancora e ci vediamo alla prossima video recensione che c'è la comunità